Spirito Santo, Amen. Iniziamo il cammino della Quaresima. Le ceneri hanno rigato la nostra fronte e un grido è risonato alle nostre orecchie convertitevi e credete al Vangelo. Domani è la prima domenica di Quaresima. La Chiesa ci mette davanti le tentazioni di Gesù nel deserto. Gesù per 40 giorni è tentato dal Marigno. È una realtà che noi viviamo nei 40 anni della nostra vita. Numero 40 rappresenta il cammino di un uomo. Anche noi veniamo tentati dal Marigno e non dobbiamo meravigliarci di questo. Però dobbiamo ferrarci contro le tentazioni del Marigno che esiste e ci insidia in tante e tante maniere. abbiamo davanti ai nostri occhi le tre risposte di Gesù che devono essere fatte nostre. Non di solo pane vive l'uomo ma di ogni parola che scende dall'alto. e l'altra non tentare il Signore Dio tuo e l'altra va via adorare soltanto il tuo Signore. Sono le tre tentazioni della vita che investono ogni uomo che cammina in questo mondo. la tentazione del piacere la tentazione dell'avere la tentazione del potere Fratelli e sorelle Cristo ha resistito e ci ha insegnato a combattere noi cediamo continuamente a queste tre sollecitazioni del Marigno e siamo imbrattati di piacere di avere di potere senza che ce ne accorgiamo Gesù ci ha insegnato a combattere a combattere stando in Cristo Gesù noi combatteremo la stessa battaglia e come Gesù combatte nella parola di Dio nella fede in Dio suo Padre così anche noi dobbiamo combattere questa battaglia e non dobbiamo essere succubi del Marigno Cristo ha meritato anche a noi la vittoria sul Marigno e allora in questi giorni di Quaresima tutti siamo chiamati al combattimento tutti siamo chiamati alla lotta perché è una lotta la vita dell'uomo sulla terra il nostro cristianesimo non può essere statico ma deve essere dinamico dobbiamo prendere le armi della luce le armi di Cristo per combattere non possiamo stare così inerti preda del nemico senza che noi ce ne accorgiamo è una lotta la vita dell'uomo per 40 giorni Cristo combatte per 40 anni il popolo di Israele cammina nel deserto anche noi per tutto il tempo della nostra vita siamo in combattimento chi non lotta che cosa sa dice la scrittura la tentazione sempre bussa alla nostra porta non è vero che ci sono uomini senza tentazioni non è tentato soltanto lo stupido quello che non comprende nulla o un bambino che ancora non è l'età della ragione ma l'uomo normale è sempre tentato come lo fu tentato Cristo e che Cristo viene tentato dal di fuori dal maligno noi siamo tentati dal di fuori in alleanza con i nemici che stanno dentro di noi con i nemici che stanno fuori di noi attorno a noi Gesù combatte soltanto contro il maligno noi combattiamo contro il maligno che si allea con la carne il grande nemico che è dentro di noi che si allea col mondo il grande nemico che sta attorno a noi ma noi dobbiamo combattere perché chi non combatte soggiace chi non combatte è caduto e siamo sicuri di vincere non nella forza nostra ma nella forza che ci viene da Cristo intanto medichiamo questa mattina le ferite con cui noi siamo stati così pulverati dal nemico nel combattimento inesorabile che succede ad ogni uomo nel cammino della vita purifichiamoci da tutte quelle sossure che a causa della nostra infermità e sotto la tentazione del maligno si sono posate su di noi purifichiamoci nell'acqua del battesimo rinnoviamo in noi il battesimo perché Cristo immergendoci in sé nella nuova grazia battesimale che noi invochiamo ci comunica la sua forza perché noi come lui possiamo combattere e vincere e allora benediciamo l'acqua lustrale chiediamo al Signore che attraverso l'acqua lustrale vengono purificate le nostre membra i nostri sensi la nostra mente il nostro cuore e perché attraverso la benedizione di Dio noi possiamo essere più forti nel combattimento e vincere perché chi non vince è perduto Dio è eterno e onnipotente tu hai voluto che per mezzo dell'acqua elemento di purificazione sorgente di vita anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato rinnovi in noi Signore la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore Signore benedici questo sale ordinassi al profeta Eliseo di risenare l'acqua con il sale perché mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incirio del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito per Cristo nostro Signore Amen La mia mente, oh Signore, purifica le mie labbra, purifica il mio cuore, purifica la mia mente, oh Signore. Gesù, 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 Parlami. Gesù, 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 Parlami. Gesù, 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 Parlami. Gesù, 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 Gesù. Gesù, 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 esponiamo a Te i nostri cuori. non vogliamo, Signore, lacerarci le vesti non vogliamo lacerarci le cose esteriori a noi ma vogliamo offrirti la debolezza del nostro cuore i nostri amanti, oh Signore vogliamo offrirti i nostri idoli Signore Gesù, fa che non sciupiamo questo momento di grazia che la Chiesa ci offre Signore Gesù, fa che non sciupiamo questo momento di grazia che noi abbiamo oggi accogliere, oh Signore, quest'acqua in segno del nostro frattesimo del segno, Signore, della nostra morte al peccato e del nostro rinnovamento del lavacro di rigenerazione che viene dal tuo spiego Signore Gesù, opera questa rivoluzione mentale nella mia vita, oggi te lo chiedo questo è il tempo favorevole oggi, Signore, espongo a te il mio cuore purifica le mie mani purifica il mio cuore purifica la mia vita purifica il mio cuore purifica il mio cuore purifica la mia vita purifica il mio cuore purifica il mio cuore Gesù, 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 Gesù guida mi Gesù, Gesù, Gesù cambiati Gesù, Gesù, Gesù salvati Gesù, Gesù, Gesù vogliamo dirti ancora Gesù, cambia la nostra vita cambia la mia vita adesso, Signore cambia la mia vita, o Signore questo è un momento troppo importante che noi, o Signore siamo qui esposti alla tua grazia e vogliamo accoglierla tutti quanti ti vogliamo gridare oggi, questa mattina cambia la mia vita, o Signore cambia la mia vita, Gesù cambia la mia vita, Gesù cambia cambia la mia mente, Gesù tu solo puoi farlo noi ti invochiamo oggi, Gesù e ti diciamo cambia la mia vita Gesù, Gesù, Gesù cambi Gesù, Gesù, Gesù cambia la mia vita, Gesù cambia la mia vita, Gesù cambia la mia vita, Gesù, Gesù con il sopo esserò purificato lavami o signore esserò più bianco dalla neve signore con tutte le mie forze io non potrò mai lavarmi se non mi lavi tu o signore io resterò con le mie sotture lavami o signore nella mente nel cuore lava mio signore nell'intimo dove risiede il mio peccato purifica monsignore esserò più bianco dalla neve monsignore rinnova in me il tuo santo spirito perché io posso iniziare questa quaresima nella tua grazia nella tua forza e posso così prepararmi alla santa pasqua al grande passaggio di una vita vecchia la vita nuova signore tu hai già operato dentro di me ma io sono rimasto nelle retrovie mi sono adagiato in una vita comoda ma rinnovo signore in me il tuo spirito saldo perché io riprendo il mio cammino perché purificato rinforzato dalla tua grazia possa compiere il grande viaggio o padre che nell'agnelli immolato sulla croce fai scaturire l'tor gente dell'acqua viva purifica il tuo popolo signore o cristo che rinnovi la giovinezza della chiesa nella vacca dell'acqua della vita o cristo che nell'acqua del battesimo si fai riemergere come premizia della creatura nuova purifica il tuo popolo signore o dio che raduni la tua chiesa spolta il corpo del signore benedici questo tuo popolo ravviva in questo popolo per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo e la grazia del santo battesimo perché possa proseguire il cammino dei 40 giorni fino alla tua pasqua procediamo per cristo nostro signore ascoltaci o signore perché generosa è la tua misericordia nella tua grande clemenza volgete a noi o signore preghiamo guarda con poterna bontà di ogni potente la debolezza dei tuoi figli e a nostra protezione difesa stendi il tuo braccio invincibile per il nostro signore gesù cristo tuo figlio che è dio e vive regna con te nell'unità dello spirito santo per tutti i secoli dei secoli grazie a tutti 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 Esaia. Così dice il Signore, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare è impio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio, ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non possono inaridire, la tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane, ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi, se tratterrai il piede dal violare il sabato, dallo sbrigare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare, allora troverai la delizia nel Signore, io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe, tuo padre, parola di Dio. Insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via. Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice, custodiscimi perché sono fedele, tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno, rallegra la vita del tuo servo, perché anche a te, Signore, innalzo l'anima mia. insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, ınız cliente, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, insegnaci, Signore, la tua via, in piedi. Glorie a Teo Cristo, glorie a Teo Cristo, previ e per la gloria, glorie a Teo Cristo. Non voglio la morte del peccatore, dice il Signore, ma che si converta e viva. Glorie a Teo Cristo, glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo. Glorie a Teo Cristo, glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo. Glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo. Il Signore sia con voi, glorie a Teo Cristo, dal Vangelo secondo Luca. Glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo, venite e per la gloria, glorie a Teo Cristo. In quel tempo Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle imposte, egli disse, seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una polla di pubblicani e di altra gente, seduta con loro a tavola. I farisei e gli scribbi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli, perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori. Gesù rispose, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. Gesù rispose, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i suoi discepoli, 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 ma i suoi discepoli. Gesù passa e dice a quell'uomo alla rebelliera seguimi ed egli lasciando tutto si alzò e lo seguì Gesù passa e chiama ha chiamato anche me un giorno oggi sono 70 anni 15 febbraio che vesto quest'abito monacale sono 70 anni che porto l'abito francescano 15 febbraio 1927 oggi 15 febbraio 1997 70 anni ricordo quando mi misero addosso dopo avermi liberato dalla giacca l'abito vecchio misero addosso l'abito nuovo il cordone per noi francescani è la festa della lingua di Sant'Antonio e Dio chiese la lingua di Sant'Antonio per poter predicare come lui il Signore ha concesso la grazia perché da 70 anni sono con la bocca aperta e continuamente la parola di Dio risuona sulla mia bocca la mia lingua non si è fermata né predicare la verità e l'amore e oggi sento grande gioia nello stare qui in mezzo a voi cari fratelli e sorelle nel viaggio della vita 70 anni che porto quest'abito 70 anni di cammino e c'è da benedire il Signore ma c'è da riflettere sulla chiamata anche noi siamo stati chiamati dal Signore ognuno ha la sua strada ma tutte le strade convergono nell'unica via che è Cristo perché è l'unica via che porta al Padre Lui le strade possono essere diverse i viotti possono essere diverse ma tutti convergono nell'unica strada grande meravigliosa luminosa che è Cristo Signore però la chiamata nel nostro ricordo ci deve stimolare all'impegno di seguire il Signore perché potrebbe succedere questo che noi ci fermiamo a metà strada e non ce la facciamo qualcuno può essere preso da timore qualcuno di fiacchezza qualcuno può essere tentato dal marigno di deviare ci sono lungo il cammino tanti ostelli tante bettole ritrovi dove qualcuno si può fermare e perdere il ritmo del cammino perdere di vista Cristo che cammina ci possono essere tante deviazioni tante sirene che portano fuori strada tante luci abbaglianti e false che portano fuori pista ma Cristo è davanti a noi luce che illumina il nostro cammino dobbiamo riprendere questo cammino se ci siamo fermati a metà strada dobbiamo riprendere questo cammino se siamo stati sviati fuori il sentiero che porta la salvezza ed oggi il Signore si chiama si chiama per nome come chiamò qui Matteo Levi come chiamò Pietro come chiamò Giovanni e Giacomo figli di Sebedeo così chiama noi ciascuno di noi e oggi se tu senti di nuovo la chiamata di Dio il quale non cesse di chiamare perché la chiamata non è di una volta soltanto ma viene continuamente ripetuta sembra sembra di suona nel nostro cuore oggi se il tuo cuore ascolta la parola del Signore che questo cuore non ti indurisca ma segue la voce di Dio che ti chiama segui il tuo Signore che cammina davanti a te Gesù si ferma nella casa di Matteo mangia beve beve e mangia con i peccatori lo rimproverano perché mangia e beve con i peccatori e l'ipocrisia umana che si affaccia sulla bontà misericordia e giustizia di Gesù ed egli dice non sono i sani che hanno bisogno del medico non sono i giusti che io sono venuto a chiamare i miei peccatori ed io sono qui in mezzo agli ammalati sono qui in mezzo ai peccatori sono qui in mezzo agli infermi dell'anima e del corpo per questo io sono venuto e nella casa di Matteo ci sono i pubblicani ci sono coloro che rappresentano il peccato rappresentano l'infermità umana in tutti e tre parametri Gesù è venuto per noi peccatori per noi infermi per noi malati lo dice solennemente lui io sono il medico io sono il giusto io sono la medicina di tutte le malattie io sono la giustizia di tutto ciò che è peccaminoso io giustifico in me tutti i peccatori io risano in me tutti i malati fratelli e sorelle Cristo Cristo ci chiama ci chiama se è lui il centro dove dobbiamo andare il centro della colta una volta che siamo in lui in lui abbiamo la guarigione e potremo così proseguire il cammino verso l'eternità dai infermi non possiamo camminare da peccatori non possiamo congiungersi con la giustizia di Dio ma lui diventa fontana di giustificazione diventa fontana di vita fontana di guarigione fontana di liberazione e liberati lui dai ceppi che ci legano liberati da lui da quelle catene che ci impediscono di muoversi ci legano alle braccia guariti da lui da tutte le infermità che ci rendono deboli ravvivati da lui che la vita giustificate da lui che offerte il suo sangue per noi noi possiamo camminare nella sua via possiamo camminare in lui e arrivare così in lui alla vita fratelli e sorelle è una parola che si suona questa mattina dentro i cuori di tutti dentro i nostri cuori tutti siamo peccatori tutti siamo peccatori e tutti siamo malati nessuno si illuda perché se c'è qualcuno che dovesse dire io non sono un peccatore non sono come gli altri costrui già escluso dalla salvezza perché la salvezza è portata da Cristo se tu non hai bisogno di Cristo sei fuori dalla salvezza invece tu sei peccatore beato beato te se riconosci che sei un peccatore un peccatore come gli altri beato te se tu riconosci che sei infermo malato e hai bisogno di Cristo Cristo ti risanerà Cristo ti giustificherà e tu acquisterai l'amore dentro il tuo cuore la misericordia di lui si trasfonderà dentro il tuo cuore e così è riflettiamo la prima lettura ecco il Signore una volta che siamo con lui ci insegna a non puntare il dito sul fratello sulla sorella spesso noi giustificati da Dio guarite da Dio ci sentiamo come così in un grado di sicurezza di privilegio di falso privilegio e puntiamo il dito sugli altri additiamo gli altri come peccatori e allora che Cristo ci rigetta da sé perché la misericordia che lui ha usato a noi noi dobbiamo usarlo agli altri ed è allora che brillerà su di noi la luce di Cristo la luce della verità il testo della prima lettura il celebre testo di 58 di seia deve essere sempre davanti ai nostri occhi noi che reclamiamo giustizia noi che giustificati gratuitamente di Dio poi vogliamo esigiamo dagli altri quello che Cristo non ha esigito da noi ricordatevi ricordiamoci tutti di quella bella parabola quando il debitore di 10.000 talenti si prostrò davanti al suo padrone e il padrone cancellò di punti in bianco il debito di 10.000 talenti miliardi e miliardi di ride oggi di punti in bianco non esigeva nulla soltanto che piegasse le ginocchia e riconoscesse il suo peccato basta una lacrimuccia davanti a Dio per commuovere il cuore di Dio ma quel graziato quando vedi il suo compagno lo ferma e gli dice dammi i 100 denari altrimenti ti strangolo o ti porto dal giudice cava fuori il denaro che mi devi e il padrone cosa disse portatelo qua e quando lei va davanti disgraziato disse come io ti ho rimesso perché tu piegavi le ginocchia davanti a me per questo gesto soltanto i debiti enormi di 10.000 talenti e tu disgraziato non sei stato capace di condonare o di devazionare il debito al tuo fratello che ti chiedeva perdono aiuto dice da noi non siamo esigenti contro i nostri fratelli e le nostre sorelle ma siamo larghi della larghezza di Dio non esigiamo l'umiliazione del fratello e della sorella davanti a noi si hanno mancato e severamente hanno mancato ma siamo generosi basti un cenno e il nostro cuore si apra alla misericordia e all'amore come si è aperto il cuore di Cristo come si apre il cuore di Dio i disgraziati siamo noi non quelli che ci devono qualche cosa ma noi quando ci impuntiamo e desigiamo noi poveri meschini spirorci noi che non sappiamo usare carità e amore verso i fratelli e la sorella ed esigiamo chi siamo noi ad esigere e come mai noi esigiamo quando Dio si contente di una lacrima quando Dio si contente di un piegamento di genoccia non abbiamo conosciuto Dio non conosciamo Dio è detto giudizia senza misericordia per chi non ha usato misericordia mentre se noi usiamo misericordia Dio dimentica il nostro peccato ed egli darà nel nostro grembo una misura larga sorrabbondante perché la misericordia di Dio non si lascia mai vincere dalla nostra poca misericordia per quanto grande sia la nostra misericordia è sempre piccola davanti alla grandezza della misericordia divina siate misericordiosi per essere figli del padre vostro che è nei cieli chi è il figlio di Dio chi è misericordioso chi non è misericordioso è figlio del diavolo chi non usa misericordia è figlio del maligno apriamo il cuore alla misericordia e all'amore questo è il digiuno quaresimale che il Signore esige da noi la carità l'amore si offrirai il pane all'affamato se cesserai di puntare il dito e di parlare è lempio contro il torratello allora brillerà fra le tenebre la tua luce la tua oscurità sarà come il meridio allora ti guiderà sempre il Signore ti sazierà interrediali rinvigorirà le tue ossa sarai come un giardino irrigato e come una torgente le cui acque non inariniscono perché fratelli e sorelle tu sei come un terreno arido non irrigato perché le tue osse languiscono perché il tuo cuore viene meno perché sei ancora nelle tenebre perché ancora non brilla la luce di Cristo nella tua mente nel tuo cuore nelle tue mani perché non hai usato misericordia perché ancora punti il dito contro il fratello e la sorella perché sei esigente vuoi che il fratello ti piega i tuoi ginocchi perché sei ancora nelle tenebre quando Cristo ti ha illuminato vuoi che una sorgente di acqua viva sgorghi dal tuo cuore usa misericordia verso il fratello e la sorella e allora sarai una sorgente di acqua viva il tuo cuore sarà nella gioia la tua luce sarà come il merigio e la tua vita sarà sempre irrigata dall'acqua del Signore allora tu potrai ricostruire le fondamenta di epoca lontane potrai ricostruire la tua vita perché non è ricostruita la tua vita perché ondeggi sempre tra il bene e il male perché tutta vai in rovina in casa tua perché non hai perdonato perché guardi in cagnesco il tuo fratello perché dentro il cuore conterli ancora la lucide con il fratello se il tuo cuore è libero se tu perdonarai di cuore ed è difficile perdonare di cuore ma Cristo dentro di te può essere perdono per tutti se tu avrai il cuore libero libero completamente da qualsiasi ricordo da qualsiasi rancore allora tu potrai ricostruire la tua vita ricostruire la tua casa allora brillerà la luce di Dio dentro di te nei tuoi familiari in tutta la tua famiglia perché la luce di Dio è questa e la parola di Dio non verrà mai meno signore noi tutti siamo peccatori tu ci hai chiamati come Matteo a camminare ma a camminare nella via dell'amore Matteo lasciò il denaro lasciò la sua casa lasciò tutto e non ebbe rimpianto noi siamo stati chiamati e forse non abbiamo lasciato la nostra casa forse non abbiamo lasciato il bene che avevamo ci siamo condotti dietro il bene della terra ed è per questo che arranchiamo nel cammino perché siamo trattenuti appesantiti dai beni che ci portiamo appresso Matteo lascia tutto lasciare tutto liberare il cuore da ciò che ci grava e col cuore libero camminare dietro il Signore che ci chiama fratelli e sorelle Dio è grande nell'amore noi siamo piccoli nell'amore ma quanto più noi siamo grandi nell'amore prendendo dalla grandezza dell'amore di Cristo tanto più cresceremo nella via di Cristo tanto più cammineremo avanti nella santità Cristo oggi ci chiama ci chiama tutti uno per uno e oggi si ascoltate la voce del Signore non vogliate indurire il vostro cuore Dio Dio ci chiama all'amore all'amore per Lui all'amore per gli altri perché questa è la chiamata la chiamata all'amore perché Dio è amore viviamo di amore per Dio e per Dio lasciamo tutto viviamo di amore per gli altri e per amore degli altri lasciamo i nostri rancori i nostri ricordi le nostre riserve lasciamo tutto perché nell'amore del prossimo c'è l'amore di Dio e allora la nostra luce aprirà allora la nostra vita sarà rigogliosa allora noi cammineremo cammineremo per tutto il tempo della nostra vita cantando cantando il canto noziale entreremo con Cristo nella gloria Amen guardate questo è il momento della riflessione la parola di Dio deve calare dentro di noi deve riposare dentro di noi deve produrre gli effetti dentro di noi non c'è posto per altra parola durante questo silenzio profetico noi tutti malati nell'anima nel corpo nello spirito volviamo a te il nostro sguardo tu sei chiamato noi abbiamo risposto sì eccomi ma adesso signore tu ti stai mettendo a tavola con noi abbiamo bisogno del tuo perdono abbiamo bisogno della tua guarigione abbiamo bisogno della tua liberazione vieni in mezzo a noi signore gesù guariscici dalle nostre infermità liberaci dalle nostre catene e dei nostri peccati liberi noi e liberi tutti i nostri fratelli perché tutti siamo stati chiamati a camminare dietro di te vogliamo ti abbiamo presentato signore le nostre richieste siamo sicuri o signore che il tuo cuore è aperto che tu ancora offri te stesso al padre per ottenerci guarigioni e liberazioni già hai cominciato ad operare signore ti ringraziamo perché c'è un uomo che ha una vena otturata e tu lo guarisci oggi stesso ti ringraziamo per un altro uomo che ha il cuore ingrossato tu lo stai visitando e tu riporti alla norma il suo cuore ti ringraziamo perché c'è una donna che ha una piaga che non può guarire ma tu tocchi questa piaga e la guarisci ti ringraziamo signore perché tu stai visitando il polmone di una persona c'è un enfisema tu tocchi e guarisci signore tu ammonisci un uomo che è attaccato al denaro e al suo lavoro va bene il tuo lavoro ma apri la tua borsa al povero all'indigente non essere attaccato al tuo denaro e allora la tua vita brillerà la tua salute rispenderà ascolta questa parola questa parola per te ti ringraziamo signore perché stai consolando tanti cuori fai sentire a tante persone il tuo perdono che si manifesta anche fisicamente con il calore al petto ti ringraziamo signore ti ringraziamo signore perché stai guarendo il sangue e stai rimettendo alla loro norma i valori del sangue ti ringraziamo tutto quello che tu stai facendo signore nell'anima e nel corpo il tuo perdono sta scendendo in tante persone che si sentono addolorate benedici signore tre persone che hanno deciso di perdonare e di ripacificarsi attuate questo vostro disegno io sono con voi e venderò i vostri passi signore ti ringraziamo di quello che tu ancora stai facendo in questo momento tanti dolori stanno spariti stanno sparendo perché tu sei buono e misericordioso ma tu vuoi che noi camminiamo nella via dell'amore è un giorno bello questo un giorno in cui tu allenti il rigore della tua giustizia e ragisci misericordia e perdono però vuoi che anche noi usiamo misericordia e perdono verso i nostri suoi temi signore ti ringraziamo e ti benediciamo però tu che hai degli amuletti siete in tre che avete degli amuletti anzi in quattro avete ancora degli amuletti avete fatto ricorso a forze straniere per chiedere protezione per acquistare poteri buttate via quella roba è negazione di me è peccato contro di me io sono l'unico signore non mettete dentro di voi nelle vostre portafoglie nella vostra tasca roba che attira la presenza del maligno ascolta ascoltate e adesso signore noi ti benediciamo e ti ringraziamo e vogliamo cantare a te alla tua infinita misericordia canto numero 166 avete detto andiamo alla casa del signore ed essi i vostri piedi si sono fermati qui in gerusalemme e io vi benedico voi tutti che venite da vicino da lontano voi siete i miei figli mi siete costati il sangue mi costata la vita ogni giorno amatevi e allora si realizzeranno per voi le parole che ho detto per mezzo del profeta Geremia 29 e di Osea 2 vi moltiplicerò sarete numerosi vi stringerò il mio cuore e sarete un popolo grande grande perché io cerco tutti i miei figli ognuno di voi stenda la mano al fratello e lo inviti sotto la sua tenda ognuno inviti il fratello sotto la sua tenda ed io vi benedirò ancora io guarisco i vostri cuori ancora guarisco le vostre membra perché mi appartenete voi siete la mia carne e le mie ossa io sono come uno di voi uomo sono disceso dal cielo mi sono vestito dalla vostra carne per darvi me stesso la mia divinità lasciatevi amare da colui che è venuto a cercarvi e amatevi tra di voi come io vi amato mutate i vostri pensieri mutate i vostri cuori e qui ancora come segno guarisco un'ipofisi come segno guarisco un'atacchicardia ma mutate i vostri pensieri mutate i vostri cuori io sono il Signore io sono il padrone vostro obbedite a me e sarete felice Signore ti ringraziamo perché tu come dici nel Salmo se tu non ci avessi soccorso se tu non ci avessi venuto in aiuto noi saremmo ancora nel laccio ma tu hai rotto il laccio e noi come uccelle liberati siamo scampati dal pericolo ti ringraziamo Signore perché tu sei con noi qui ti ringraziamo resta con noi Signore abbiamo bisogno di te nel cammino della vita illumina il suo Signore e sei tu la nostra strada la strada che dobbiamo percorrere e adesso Signore vogliamo cantare a te a te che sei l'amore vogliamo innalzare dal nostro cuore un canto di lode vengono i santi angeli tuoi oh Signore a risolevarci dal nostro torpore mettano il canto degli angeli sulla nostra bocca e noi tutti canteremo a te canteremo a te che sei il Signore tutti all'impiedi cantiamo all'unico Signore tutti tutti potete cantare Gli do il dono del canto ad alcuni di voi tanti che non avete cantato potete cantare io metto il canto mio dentro il vostro cuore sulle vostre labbra aprite la bocca aprite la bocca ed io metterò il mio canto e adesso signore all'inno all'inno il vostro cuore il vostro cuore e adesso signore e adesso signore che non l'inno non che non Grazie a tutti. Lasciate i vostri pesi qui ai miei piedi e cantate. Lasciate i vostri pesi e cantate, alzate le mani al cuore. Lasciate i vostri pesi e cantate. 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 Adesso il Signore ci benedirà. passerà i vostri pesi e cantate i vostri pesi e cantate. Lasciate 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 i vostri pesi e cantate. Il nostro cuore caldo, io sono il Signore. Il nostro cuore caldo, io sono il Signore. Ora ascolta, Giacobbe, mio servo, Israele da me è letto. Così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti aiuta. Non temere, Giacobbe, mio servo, Gesù da me è letto, poiché io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri. Cresceranno come erba in mezzo all'acqua, come salici lunghe acque torrenti. Questi dirà, io appartengo al Signore. Quegli si chiamerà Giacobbe, altri scriverà sulla mano del Signore e verrà designato con il nome di Israele. Grazie, Signore. Ed ecco si presentò un angelo del Signore e una luce svolgorò nella cella e gli taccò il fianco di Pietro, lo destò e disse alzati in fretta e le catene gli cadderò dalle mani, un uomo è liberato. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sagratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paracrito, benedetto lo Spirito Santo Paracrito, benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetto la sua santa e immacolata Concezione, benedetto la sua santa e immacolata Concezione, benedetto la sua gloriosa Assunzione, benedetto la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo cantissimo sposo, benedetto San Giuseppe, suo cantissimo sposo, Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Vogliamo ricordare che domani per tutta la comunità...